Buonasera ragazzi, qui è Commander Invidia, bentornati in un nuovo video sul canale e quest'oggi siamo qui per l'evento finale del capitolo 2 stagione 8 Faccio questa introduzione al di fuori del filmato perché sono accorto che al momento della registrazione, anzi al momento dell'editing il video e l'audio sia del game che del microfono erano un po' sfalsati quindi ho dovuto rifare l'introduzione vedete un po' di frame lag all'interno del game proprio perché il mio computer quasi quasi non riesce a fare due cose contemporaneamente ad esempio come fortnite con tutto a ultra direct x 11 più registrazione a 30 megabit per secondo quindi cercherò appunto di fare del mio meglio e vabbè godetevi l'evento dopo il video ma c'è non mi cazzo se hai capito di dover no no ti sto mandando un messaggio nella playstation io c'ho l'alconic e chi è da? ah non è lo studiola io provo a immaginare che gli ha fatto tutte queste strutture è uno dei sette sicuro Andrea vieni potrebbe essere visitor paradigma scientist of the foundation te che sta facendo no io dico alcoolio vabbè lasciamo start e due 33 minuti e mezzo ah vabbè che divertire divertire ce lo so ma si possono prendere le forze spero che te non ci abbia spoilerato bene spero che non abbia spoilerato nulla io la devo facciare la tua moda peccato non si può utilizzare peccato non si può utilizzare la tua moda quindi dobbiamo sparare la regina sparare la regina ma quante torrate ci sono ce ne sono date figo sta prendendo un batte shield ma uno shield scusa ma scusa ma scusa no non si può vederla il fatto di salute no che ti ha lasciato ma no ma perchè no sta lasciando tutti aspetta 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 un secondo what is happening no sta lasciando un altro che figo un secondo un altro edo che belletto bagliamo la sua parte edo questo d ma dove sei leo per me lo so ce ne sono mille quanta troia io sono tipo vicino a cubo di rubik e se cubo di rubik cubo di rubik cubo di rubik questo è bello proprio dipende che aspetta se vi è vicino al cubo allora adesso giro il po io sono vendera con no edo sono oh ecco allora capito dove sei sto ballando tipo la flos con una mano ecco ti gran pazzerello addio fai un belletto g g gran balletto anzi aspetta questo è per te no no eh senti tu sono di mezzo no no ma è per te dai ti faccio una storia chi sa va a prenderlo davvero adesso adesso lo prendo davvero il terzo mi camicia il terzo mi camicia il terzo il terzo no ma guardatelo guardate qua che professionista carica manca terzo mi otta il terzo 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 andava la baga oh ti sei ucciso sei morto? come hai fatto a coprire il pinocchio? c'è un leggero muro c'è un leggero muro ma io non ho capito dove sono finiti gli altri non è leffitato? no ci sono ancora ma non ho capito perchè hanno invitato il gruppo no no a tutti gli altri a piccola.it torino ma io vedo tipo le schiene dei soldi no perchè ho la performance no leo quando stai fammi il ballo più og che hai provo più 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 og e minchia ne hai tutti i balli praticamente non esattamente no si se ho 300 euro no 100 100 100 no non è quello che c'è più però lo faccio per il signorino qua che lo sta già imitando season 7 overdrive limitless si ma l'ho preso non è raro però a me piace tantissimo ha un rumore delle movenze è un rumore bella la musica papà vabbè comunque mancano dei 4 minuti ci rivediamo quando mancherà circa 2 minuti qual è il punto più alto no oh 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 me Anna qua succede qualcosa di veramente qui qualcosa sta per accadere qualcosa di veramente brutto oh 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 Mostri come i mostri ma che mystico sono sponodo disons ma che figo almeno pare cheفسone infiniti 악 non dyno e lei tree più Active causante motbooks anche io Cosa era? Che sì, best place Fallo Oh, dove vanno? Viene, viene, viene apprezzate Imitate, ma non replicate Ma non so ho fatto quanti ma ci sono persi tantissima roba da questa parte un piccone fu piccone non ha perso vita ma devi lo stesso ricaricare dopo con tutti che ne ho capito madonna FUNTI step in the base ah io ho proprio dei brutti riporti perchè hai giocato a salve il mondo vedendo sti zombie si mi ritrovo ma cazzo WTF is smart dude ma fogli 20 che merda uno skill payment eh ciao perchè sono stati come si metti in mezzo? edu 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 che tardo oh il petelo che dobbiamo resistere per 7 minuti non care Si bala ragà Si bala ragà Vero No non abbiamo Sì Puoi utilizzare le sorrette? Puoi utilizzare le sorrette? Sì 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 Spero che abbiamo Imi sentati due persone Per esempio Ci sono io amore Cosa fai qua? Si mi incide perché io non puoi farla Perdi Uno delle 36 persone che sta robind Anche se... Sparate sparate Guardalo Quel pier bald Non c'è stanno anch'io chiedo di merda ma c'è stata triste che puoi tenere solo il chieson non si trovare ehm ma c'è stato triste che puoi tenere solo il chieson ma c'è stato triste che puoi tenere solo il chieson ma c'hanno parlato con il minuto ma d'ora che posso fixare No! Adesso no! AAAAAH! Anonimo! Anonimo! Oh no! Ma c'è una caduta? Sì. Piantano da caduta. Non voglio provare a vedere cosa succede se non voglio prenderlo da caduta. Anche se in realtà è stato un po' In realtà qua c'è già della gente che si sta flexando gli edit. Ma non serve a niente flexare gli edit, dobbiamo far fuori gli zombie! Ma che musichetto? Ma che musichetto? Oh! Potevano i pulmini! Potevano i pulmini! Ma senti? Ma non è che possiamo distruggere? E tu! Sbaglio! E la musica che hai messo te è the end. No, non è questa. No, non è questa. Non è questa. Non è questa. Non è questa. Fates cup stati caduto! Ci devi guardare dall'alto a Sotto! Va bene! Destra! Ok, vuoi varicandolo? Sì! Cominciamo, è vero anti Il Cl wind deve avvarci una scelta. un po' sentito la minore in chiaro che sono dei dici non ci svegliano gli editi in questo momento fai poli di zombie e basta per ammolire la tua torretta ragazzi guardatemi guardatemi una granate un pezzo di merda guardi chaton pil 3 minuti oh ragazzo in qua flex ieri un pezzo di merda vaffanculo oh le cose stanno cominciando ad agitarsi qui sono tardo molto poco ma guarda oh io sono con dove sei? un pezzo di culo eccoci mi distaccio da tutto da tutto il mondo ma adesso ci sto sparando dall'alto ma adesso ci sto sparando dall'alto un'altra cosa esiste il ma perchè mi spara messociare non ti dissocio assolutamente lo dico io di dissociare se esiste anche questo ehi ehi hai finiti maff no quanto ti manca? vedo se facciamo le cose che mi quanto ti manca? eh 70 di legno è otto però non credo che sia un problema tanto la Firenze ma che non c'è cosa nemmeno ma che non c'è cosa nemmeno non c'è cosa nemmeno esatto la legna si ricarica in un'automaggio dopo oh no non c'è cosa nemmeno eh siamo ben pure ragazzi one meal edo facciamolo a contarlo a rovescio non saranno meglio direi che è ancora troppo presto ma che sarà togli la sveglia del tuo apple per la sveglia solo per la sveglia no no non va bene raga dove siete raga dove siete un punto più in alto dobbiamo andare ok si vede ok si vede ok si vede ok si vede dobbiamo andare quale è il punto più alto raga riusciamo a sedere sul cubo sopra no non si può quando sul cubo per questo sese costruisce poi raga i zombie che cosa facciamo da 100 non si può nemmeno non si può vedere come del centro non è entrato da 100 40 secondi rimanenti e dove vieni e dove ti sto sparando troppo mi ha fatto la torre qua esatto andiamo oh mi ricarico shield eh vai raga spavano 23 secondi eh vai 10 facciamo la rovescia 20 secondi eh sto arrivando anch'io nella torre raga raga 10 facciamo la rovescia 13 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 11 12 19 15 20 20 20 21 21 23 23 24 25 25 23 23 24 ma che cosa sta succedendo? ooooh mio, vabbè guarda no, c'è il boss, ci sono due boss, ci sono ma? cos'c'hoee ma che cosa dici? ma non li riusciremo mai a eliminare tutti è morto, ognuno si occupi di uno morto meno male che voi non dici se ecco così se forse sono come quelli originali occhio raga, occhio, occhio nooooo guardate quella ha craccato 1 no 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 ma questa nuova animazione ce l'ho potuto le armi ce lho potuto le armi l'ho fatto tutto le armi non so no sto eliminando abbiamo perso Guarda 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 i giocattari 25! Mi ho perso! Guarda! No! Stiamo morrendo tutti! Siamo arrivati in 10! Via! Che cosa succede? Siamo arrivati in 10! No ragazzo non sto ucciso! Non sto facendo scubo! Ti prego! Oh no! Cosa vuoi fare? Ti prego! Sì! Portale! Oh! Sono ancora lì! Sono ancora lì! Ma no! No aspetta! Imagine Order! Dottor Sloan! Sono ancora lì! Sì! 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 Ma che è? DROC! Ma veramente! DROC! Ma che ci fa DROC all'interno di Fortnite? Ma che ci fa DROC all'interno di Fortnite? DROC! 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 La rega è la rega. No, non è la rega. Non è tutto. Visitor! No! Significare! C'è un siaco! Ma? Ovviamente hanno molto più l'or in questo processo. Ma dove si torna? Scusa, ma andiamo dall'altra parte o dall'altra parte? WTF? VAMO A CREARE! Siamo uno scienziato! No, aspetta! Ci siamo anche noi! Let's go! Ci siamo tutti! Chi è sto Venom? Dove ci stai portando? Ci stai portando la morte! Buongiorno! Si fa ginnastica! Si fa ginnastica! Si fa ginnastica! Si fa ginnastica! Devi muovere l'analogico che fa anche ginnastica! Eh, ma stiamo correndo anche nella vita reale, secondo me. In realtà noi stiamo correndo anche nella vita reale. C'è tutta l'estanza della IO! Questo è la roba dei impostori! Esatto, è vero! No, 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 no! Si sta piegando un bus! Che è scinto, il bus! Che è scinto, il bus! E' la roba dei impostori, davvero il bus! E' la roba dei impostori! 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 Una madonna! Cos'è? Bulldozer? E' una granita di rock! E' una granita di rock! E' una granita di rock! No, ma è una roba potta! Ho capito, però no! Di rock è... E' questa... Be' linda! Agent Jones! Dove? Ma sentite Agent Jones! Esatto, ma dove è? Scusate! CARATE! Ah no! Sono a Paranata! E sarebbe stato finito! In che punto si è... E' una 30 gradi di inclinazione! Ecco Foundation! No, no, no! No, no, no! E' la ultima! No, non possiamo usare! Ok, io... Domani? All'inizio! E poi ci sono tutti i miei punti! Che idioti di Agent Jones! Ah no, guarda... L'inizio è stato da uno dei miei punti! Ma che c***o? E ora è un'othè... Contazione... Contazione di 60 gradi! Ottac... A me c***o! Se sgredito! E' reso di 1.000 volte la pressione atmosfera! Oh oh! C'è già... C'è già già! Poi per quello! Stiamo per morire E' acqua era sotto era sotto l'acqua Siamo morti dai gatti. No, non credo No, lars, devi rimanere Questa foto quasi tante volte Che salverò anche adesso. Se non la sua terra emersa? Minu Maxi Ma che sta? Ma dove siamo? Il mar aperto Il mar aperto Oh mio dio Ma che? Non dirai che questa mappa Giusto quella lì? No, non è possibile. E' sottoterra quello lì Quella è una mappa La mappa si è rivolta Si è rivolta Si è rivolta Ma la regina E' chi sta facendo sottile Ma è no Ma che cavolo è? E' morta E' morta con l'acqua Ma ottio E' allergico all'acqua Sì Ah, è asanai Bello Completamente devastate la storia E' la mappa si gira Minchia Tsunami Si è rivolta C'è un'altra Eh si L'avevano fatto vedere In poche parole Sotto Alla mappa del capitolo 2 Il capitolo 3 Sotto la mappa del capitolo 2 C'è quella del capitolo 3 Sempre stata così ODO Tsunami Avvicinamento Non può spazio No, non può stare No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Sto vinili Sto vinili Sto vinili Non ti vedo più Non dimmi che buco nero No, non penso si Aspetta un secondo Siamo su un tronco What has happened? Perché c'è Rox nel mare aperto? Su un tronco No, è la stessa cosa di Mindex Verremo mangiate da uno squalo Spero di no Eh, però c'è scritto Exit, mi sa che è finito qua Probabilmente Mi sa che è finito l'evento Facciamo vedere esci Doveva durare 15 minuti in teoria 15 minuti in teoria, sì Vabbè, se l'evento è finito Raga Ah, ma dovremmo uscire da Fortnite Eh, sì Vabbè, speriamo che l'evento finale Del capitolo 2 Ovviamente, spero, sia stato di vostro cadimento Spero Perché un evento così grande Che io sappia Oltre al capitolo 1 Che per me, capitolo 1 È quello più mistico in assoluto Confermo Cioè L'evento che è venuto giù Scientist Nel rocket E a seguito Il cannone ionico Una volta esploso l'orbe Venuto giù il meteorite E poi il cannone ionico Per me È stato L'evento Più bello in assoluto Season 10 Non season 18 Vabbè Ricordiamo L'evento è finito Noi vi siamo Siamo qui Commander Video E Leonardo 00987 00987 Esatto Anche il nome Anche da Nico Nico ci sei di nuovo? Sì Ah ecco Pensavo che fossi perso Evento finito Noi ci vediamo Nel capitolo 3 Oppure In qualche altro filmato Di un altro gameplay Vabbè È stato bello raga Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao